Parliamo della rivoluzione bolscevica, usiamo le presentazioni in powerpoint del sito hub della Mondadori e invece come testo di riferimento questa volta utilizziamo il camera fabbietti che è un testo abbastanza vecchio ma che però su questo tema è ancora utile e tra l'altro conviene farci riferimento perché mette in evidenza alcuni aspetti della rivoluzione russa che altrimenti diventerebbe difficile comprendere oggi. Ora la Russia all'inizio del XX secolo si trovava in una condizione di incredibile povertà, povertà sia economica sia sociale. Nonostante i grandissimi progressi che pure la Russia aveva fatto da un punto di vista culturale e artistico infatti in Russia era ancora operante il sistema feudale. Un primo debole tentativo di riforma si ha già nel 1905 con Stolipin. Stolipin fu protagonista di una riforma agraria in grazia della quale non solo venne abolita la servitù della greba ma venne intaccato il latifondo. Cioè si stabilì che gli appezzamenti di terreno non potevano andare oltre una certa soglia e tutto quello che eccedeva era necessario metterlo sul mercato cosicché potessero nascere anche dei piccoli coltivatori diretti. Paradossalmente una riforma non dissimile da quella dei fratelli Gracchi nell'impero romano. La riforma venne pensata nel 1905 e interessò la Russia dal 1906 al 1911. In realtà fece sì che più di 6 milioni di famiglie approfittassero della possibilità di diventare piccole proprietarie terriere però i costi di gestione di queste terre erano talmente tanto ingenti che tanti di quei piccoli contadini che avevano acquistato le terre grazie alla riforma Stolipin poi furono costretti a rimettere queste terre sul mercato perché non riuscivano a sostenere i costi di gestione. E quindi paradossalmente tante famiglie di contadini si trovarono nel giro di pochissimi anni dalla condizione di servi della gleba a quella di piccoli proprietari terrieri a quella di braccianti che dovevano poi alla fine vendere i propri appezzamenti di terreno e mettersi alle dirette dipendenze di un latifondista. Ora, nonostante questa riforma agraria del 1905, l'anno importante per la storia della Russia è il 1917. Nel 1917 dobbiamo specificare che abbiamo due diverse rivoluzioni. La prima è la rivoluzione di febbraio e la seconda, quella più famosa, è la rivoluzione di ottobre. Poi dobbiamo anche sottolineare che il calendario russo non coincide esattamente con il calendario dell'Europa occidentale quindi la rivoluzione di ottobre in realtà avvenne nella prima settimana di novembre. Ma detto questo, per quanto riguarda la prima rivoluzione, quella di febbraio, questa ebbe luogo quando la Russia, come le altre nazioni europee, come sappiamo, aveva preso parte e stava prendendo parte ancora allora alla prima guerra mondiale e la prima guerra mondiale si era trasformata, nonostante le aspettative delle nazioni che avevano intrapreso il conflitto, da guerra lampo a guerra di trincea. Quindi anche la Russia, come le altre nazioni europee, stava subendo una forte decimazione dell'esercito, stava investendo molti capitali nella guerra e ancora non arrivavano quei vantaggi che la Russia si aspettava dal conflitto. Ricordiamo che la Russia oltretutto aveva intrapreso questo conflitto perché in realtà desiderava avere uno sbocco sul Mediterraneo e sostituirsi all'Austria nel protettorato sui paesi dei Balcani. In questo contesto di aspettative non suffragate dai fatti, avviene la prima rivoluzione che è appunto la rivoluzione di febbraio. La rivoluzione di febbraio comporterà la cacciata dello zar e anche dei suoi consiglieri più fidati, fra i quali il più famoso è Rasputin, che è diventato anche nell'immaginario collettivo per antonomasia il consigliere del sovrano assoluto. Però alla cacciata della monarchia assoluta, quindi dello zarismo, si delinea tutta una serie di posizioni politiche diverse. All'inizio viene costituito un governo provvisorio sotto la guida di Kerensky e questo governo provvisorio decide per il momento di non uscire dal conflitto, non cambiare i rapporti internazionali, portare avanti la guerra e vengono indette delle elezioni, quindi si crea all'inizio un governo provvisorio all'interno del quale appunto sono rappresentate tutte le forze politiche che avevano dato corso alla rivoluzione e ci si dà appuntamento per delle elezioni in cui si sarebbe andato a vedere per ogni singolo partito che aveva dato luogo alla rivoluzione quale fosse il peso reale, questa è una cosa normalissima. Ora, in questi mesi le varie opzioni politiche, i vari partiti politici iniziano a riflettere sulle prospettive della rivoluzione. In particolar modo emerge un partito che è il partito dei bolscevichi guidato da Lenin. Lenin già ad aprile, mentre ritorna velocemente in Russia poiché si trovava in esilio all'estero, produce un documento importantissimo che sono le tesi d'aprile. All'interno di questo documento chiarisce quali sono le aspettative, qual è, secondo Lenin, quello che deve essere il cronoprogramma del partito bolscevico se il partito bolscevico fosse stato al potere. Innanzitutto, l'uscita dalla guerra senza se senza ma. Cioè Lenin, inserendosi in quel vasto filone dei socialisti europei che vedevano nella Prima Guerra Mondiale un epilogo dell'imperialismo sosteneva che la Prima Guerra Mondiale altro non era stato se non un contrasto fra potenze capitaliste in cui gli operai dei vari paesi stavano facendo la carne da macello cioè erano chiamati a combattere come soldati semplici in una guerra dalla quale non avrebbero tratto per sé e per le proprie famiglie nessun vantaggio. Era una guerra fra capitalisti europei in cui gli operai europei si facevano la guerra morivano per fare gli interessi delle borghesie. E quindi, se il partito bolscevico fosse andato al potere non aveva alcun interesse a portare avanti la guerra ma voleva portare fuori la Russia dalla guerra senza condizioni. Quindi, anche perdendo alcuni territori la Russia comunque doveva uscire dal conflitto il prima possibile. E poi, secondo Lenin, era necessario procedere alla nazionalizzazione non solo di tutte le imprese e le realtà produttive del paese ma anche delle banche. Ora, alle elezioni che vennero indette appunto per l'autunno del 1917 il partito bolscevico, cheppure sembrava maggioritario all'interno dei consigli di fabbrica non ottenne la maggioranza all'interno della Duma cioè all'interno del Parlamento russo. Questo è un momento interessantissimo da mettere sotto la rente di ingrandimento anche da un punto di vista di filosofia politica cioè, capiamo bene, da una parte Lenin si richiamava al marxismo e noi sappiamo che all'interno della vasta produzione di Marx da un punto di vista teorico erano state prese in considerazione tutta una serie di problematiche però Marx aveva parlato della necessità dell'abolizione della proprietà privata ma non aveva indicato poi chi materialmente avesse dovuto gestire la produzione cioè Marx quando parla della necessità di una nuova società non dice che non bisogna più produrre dice che bisogna continuare a produrre dice però, in questo rifacendosi anche a Russo che ogni diseguaglianza discende dalla proprietà privata e quindi è necessario abolirla però non dice chiaramente che si debba occupare della gestione della produzione una volta abbattuta la proprietà privata allora, in un primo tempo il partito bolshevico guidato da Lenin inizia ad essere operativo all'interno dei consigli di fabbrica cioè, dove esistono delle realtà produttive delle fabbriche e all'inizio in Russia c'erano molte meno fabbriche di quante non ce ne fossero nel resto d'Europa però, dove erano presenti delle fabbriche secondo i bolshevichi era necessario organizzare dei consigli all'interno dei quali i singoli lavoratori tutti insieme dovevano collaborare anche nella gestione della fabbrica stessa a indicare quindi che cosa la fabbrica dovesse produrre dove comprare i materiali come organizzare tutta la produzione quindi il consiglio di fabbrica si doveva sostituire al proprietario che veniva cacciato via che veniva espropriato nella gestione della fabbrica stessa il consiglio di fabbrica in russo si dice soviet ora, il partito bolshevico che pure era maggioritario all'interno di questi consigli di fabbrica non era maggioritario nel paese questo è facile anche da capire è facile da spiegare cioè, la Russia era un paese fortemente arretrato e quindi, innanzitutto, c'era una forte come dire, differenza fra città e campagna e soprattutto c'era una forte differenza fra il numero degli occupati all'interno delle fabbriche e il resto della popolazione che magari erano contadini o artigiani insomma, si dedicavano ad altre attività quindi, in una ristretta parte del paese ristretta perché maggiormente le fabbriche ovviamente stavano in città e perché anche all'interno delle città non tutti erano operai però, in una ristretta parte del paese che erano appunto le fabbriche il partito bolshevico il partito di Lenin era maggioritario mentre, quando si va alle elezioni a cui partecipano tutti i maschi aventi diritto al voto ecco che il partito bolshevico non è il partito di maggioranza e quindi, alle elezioni del novembre 1917 che però in Russia era ancora ottobre Lenin e il partito bolshevico non sono la maggioranza si afferma invece come maggioranza diciamo così un'altra serie di partiti fra cui il partito bolshevico che è il partito moderato e la sinistra rivoluzionaria in realtà questi partiti sono di difficile come dire è difficile catalogarli con le categorie politologiche di cui disponiamo oggi potremmo dire che i mescevichi sono moderati mentre i socialisti rivoluzionari stavano prendendo una posizione non tanto dissimile non tanto diversa da quella che per esempio stavano prendendo i socialisti italiani coevi o di pochi decenni precedenti cioè l'idea era quella di rimanere fedeli al dettato del marxismo cioè Marx aveva detto che poteva esserci una società comunista solo dopo che si era affermata una solida società borghese che avesse trasformato la società rendendo le industrie predominanti rispetto ad altre forme di produzione e allora la rivoluzione poteva avvenire soltanto dopo l'affermazione della come dire della borghesia che avesse creato più industrie quindi i socialisti rivoluzionari pensando in questo di essere più fedeli di Lenin al dettato di Marx sostenevano che non si poteva fare la rivoluzione subito ma bisognava aspettare perché bisognava prima che si creassero più fabbriche possibili che gli operai diventassero la maggioranza della popolazione solo allora potevano essere massa critica protagonista della rivoluzione invece Lenin sviluppa un'altra teoria che poi verrà sostanziata nella dicotomia avanguardia massa per cui anche se in Russia effettivamente non era predominante il mondo operaio rispetto al mondo contadino comunque poteva avvenire la rivoluzione perché appunto il mondo operaio e il partito bolshevico potevano essere avanguardia cioè potevano mettersi alla guida degli altri e stimolare la rivoluzione e questo in realtà avviene con la presa del palazzo d'inverno che è appunto la rivoluzione d'ottobre cioè in modo praticamente incruento a tal punto che addirittura ci furono più feriti nella realizzazione del film che racconta la rivoluzione d'ottobre che nella rivoluzione d'ottobre stessa diciamo così venne occupata la sede del potere il palazzo d'inverno però a questo punto si scatena una guerra civile fra i bolshevichi da una parte e tutti coloro che non erano contenti della posizione dei bolshevichi quindi gli altri che erano stati estromessi dall'assemblea costituente si sentivano i vincitori come dire delle elezioni e a costoro si andarono ovviamente ad assommare anche i nostalgici dello zarismo ne nacque appunto una guerra civile in cui da una parte si creò un esercito che prese il nome di Armata Rossa guidato da Trotsky che combatteva appunto per stabilizzare la rivoluzione dall'altra parte c'erano le armate bianche formate da tutti quegli altri comunque in questo contesto il primo atto importante della Russia a guida di Lenin fu il fatto che venne stipulata la pace di Brest-Litovsk che alla fine viene firmata all'inizio del 1918 con la pace di Brest-Litovsk la Russia esce dal conflitto rinunciando a ben un terzo dei propri territori europei quindi una pace senza condizioni e senza annessioni necessaria secondo Lenin per portare la Russia fuori dal conflitto e per stabilizzare appunto il partito bolshevico al governo della Russia stessa a questo punto inizia questa guerra civile che interessa la Russia fino al 1921 in questo periodo diciamo così Lenin deve fare appello a tutte le forze del paese e quindi procede allacremente ad una serie di requisizioni ed espropriazioni per attuare appunto una politica di guerra quindi una gestione centralizzata da parte dello Stato di tutta l'economia e dello sforzo bellico del paese in modo tale da poter dirottare tutte le energie a sconfiggere i nemici e a stabilizzare appunto la rivoluzione terminata la guerra civile anche grazie al contributo di Trotsky appunto che era a capo dell'armata rossa Lenin inaugura un nuovo tipo di politica la nuova politica economica cioè in poche parole si rende Lenin si rende conto del fatto che lo Stato doveva continuare a gestire gli aspetti più importanti della produzione e quindi requisire quanto veniva prodotto però doveva fissare dei tetti della requisizione quindi doveva dire quanto le singole aziende dovessero conferire e quindi i singoli produttori dovessero conferire tutto quello che eccedeva cioè tutto quello che non andava conferito poteva anche essere messo sul mercato quindi in certo qual modo la nuova politica economica costituisce un poco di una timida apertura verso il mercato però diciamo così è comunque lo Stato che si fa carico di gestire anche questo mercato ulteriore e quindi per impedire da una parte il mercato nero e l'arricchimento diciamo così dei privati fu un timido tentativo che vedremo poi sarà superato perché nel diciamo nei piani di Lenin la nuova politica economica viene deliberata nel marzo del 1921 proprio nel corso del decimo congresso del PQS del partito comunista russo quindi del partito bolshevico però come dire nel 24 interviene la morte di Lenin e quindi la morte di Lenin segna un abbandono della nuova politica economica ci sarà un contrasto fra i suoi successori cioè Stalin da una parte e Trotsky dall'altra prevarrà Stalin e Stalin invece inaugurerà la politica dei piani quinquennali che poi sarà operante in Russia anche addirittura dopo la seconda guerra mondiale che poi in Russia è out che poi si non si ha giro in Russia Grazie.